5 tool di intelligenza artificiale dei quali non potrai più fare a meno, credetemi. Ormai l'intelligenza artificiale è tra di noi, non possiamo far finta di niente. Utilizziamola, così ci può aiutare. Ovviamente non vi spaventate con tutte quelle possibilità che l'intelligenza artificiale prenderà il nostro posto. Con calma, calma, tranquilli. Si può sfruttare a nostro favore senza che succeda nulla di strano. Sì, come vedete abbiamo anche cambiato setup per questi video. Perché? Perché qui si sta molto bene, visto il caldo torrido estremo che c'è là fuori e anche in questo momento in studio, perché lì non è rinfrescato. Qui abbiamo l'aria condizionata, tanta luce in questa nuova casa e di conseguenza perché non sfruttarla. Fatta questa doverosa premessa, spazio al nostro sponsor. Noi ci vediamo subito dopo, pochi istanti. Se sei alla ricerca di una licenza per Windows 10 Pro, che potrà poi essere convertita totalmente in maniera gratuita a Windows 11, oppure stai cercando una licenza per Office, così per i vostri lavori e spendere veramente poco, Hukis fa sicuramente al caso vostro. Qualora doveste poi utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto, risparmierete ben il 20% su tutti gli acquisti. Il sito è molto molto semplice da utilizzare. Una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto, troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard. Andate a copiare il codice di riferimento, ad esempio quello di Windows 10, e poi procedete andando nel pannello di controllo, seguendo la procedura di attivazione di Windows, incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto. Lo può fare veramente chiunque. Vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per il 20% di sconto, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Come detto dall'inizio vi farò vedere quindi 5 tool, da quelli un pochino più utili anche per il lavoro, per lo studio, a quelli un pochino più divertenti, perché l'intelligenza artificiale alla fine serve anche a questo, sbagarci un pochino per creare qualcosa di creativo e non solo. E parlando di creatività, passiamo al primo tool, che di creatività praticamente non ha niente, perché in realtà è un tool dedicato a coloro che lavorano, o comunque analizzano dati, soprattutto all'interno di PDF e documenti Word. Cosa voglio dire? Beh, praticamente utilizzeremo il tool chiamato chat doc. Su questo sito andremo a caricare i file PDF o doc che vorremmo un po' analizzare, che vorremmo poi utilizzare per le nostre ricerche, per le nostre tesi, compiti, insomma per tanto altro ancora. Una volta caricato il nostro PDF, che può essere un libro, un documento che ci ha inviato il nostro capo, oppure semplicemente degli appunti presi durante un incontro, beh, potremmo andare a parlare direttamente con la chat, che non è altro che ChatGPT, ma dedicata proprio al contesto in cui ci troviamo. Quindi non andrà a prendere informazioni nel web, oppure nei database di ChatGPT, ma analizzerà tutto quello che noi gli andiamo a fornire. Qualora noi andremo poi a richiedere a ChatGPT di confrontare questi dati con altri, ovviamente poi analizzerà tutti i dati presenti dal 2021-2022 indietro per parecchi anni. Quindi una marea di informazioni che se dovessimo anche impararle da soli non ci basterebbe una vita intera. Quello che si può fare è molto semplice, possiamo fare la cosa più banale, ovvero chiedere il riassunto di un testo che abbiamo caricato, magari dobbiamo fare i nostri compiti, non vogliamo stargli a perdere tempo a fare un riassunto, beh, lo possiamo fare. C'è chi dice che questo è diseducativo, ma sinceramente una volta si compravano i bigini con tutti i riassunti già pronti, quindi non vedo cosa questo possa cambiare. Risolte le critiche che abbiamo avuto sui video di TikTok, vi renderete conto come questo tool utilizzato in maniera corretta possa veramente semplificarvi la vita, ad esempio una funzione importantissima e potentissima che ha al suo interno, è la possibilità di andare a selezionare una tabella e chiedere a CogPT stesso di analizzarla, così per capire in fronte a che dati io mi stia trovando in quel momento. Spesso le tabelle sono un pochino criptiche, ecco, un'intelligenza artificiale può aiutarci anche in questo step, a comprendere meglio ciò che abbiamo di fronte a noi e quindi possiamo imparare qualcosa di nuovo. Quindi il mantra iniziale direi sempre quello, utilizziamo i tool per imparare qualcosa, non per far fare al posto nostro. C'è una gran bella differenza. E rimanendo sempre nel mondo un po' aziendale o comunque del lavoro in generale, ma anche della scuola, vi faccio vedere un'altra applicazione che può essere anche collegata a quelle che avete visto prima, si chiama tom.app. È un sito dove noi possiamo andare a creare dei veri e propri storytelling o meglio delle presentazioni per ciò che vogliamo mostrare a un cliente o alla nostra insegnante, insomma, la classica presentazione è PowerPoint. Perché vi dico che può essere collegato all'altro? Beh, possiamo prendere le informazioni ricevute dall'analisi di ChatGPT all'interno di ChatDoc per poi andare a chiedere a tom.app di crearci una presentazione proprio riguardo a quell'argomento. Ed è tutto incredibilmente semplice, basta dare un argomento in passo al nostro sito. A questo punto verrà creata in automatico una presentazione di un minimo di sei pagine con annesse anche delle fotografie. Fotografie che in realtà sono autogenerate dal sistema. Quindi sono immagini che potete tranquillamente utilizzare anche per scopi commerciali. Anche in questo caso il tool va utilizzato proprio come guida per realizzare una giusta presentazione. Qualora però non ci dovessero piacere delle frasi possiamo tranquillamente chiedere al sistema di rigenerarla da capo. Magari aggiungendo delle informazioni possiamo creare pagine nuove. Possiamo addirittura modificare l'immagine chiedendo direttamente al sistema che è collegato con Dalì, ovvero un tool di intelligenza artificiale proprio che crea immagini sulla base delle nostre richieste ed effettivamente andare a inserire quindi nuove immagini anche esse generate dal sistema automatico e di conseguenza uniche nel loro genere che potete utilizzare dove volete. È ovvio che anche in questo caso non è che il sistema farà tutto per voi vi darà un'ottima mano per ricominciare a sprecare meno tempo. Non sapete quanto tempo io perdo ogni volta per trovare l'immagine giusta per una slide. Ecco, in questo caso l'avrete già pronta o la potrete far creare secondo vostre direttive. Quindi, meglio di così, si muore. Adesso vi presenterò invece tre soluzioni un pochino più sul lato creativo o comunque utili per chi lavora nel mondo della grafica soprattutto nel mondo 3D e proprio per questo vi voglio far conoscere l'app di Luma Labs. Luma è un'applicazione che potete trovare sullo store di Apple per iOS e il suo funzionamento è estremamente semplice. Potete utilizzarlo anche tramite la webcam di un portatile però diventa ovviamente più complicato. Il telefono risulta essere sempre la cosa più comoda e quello che andremo a fare sarà semplicemente fare la scansione di un ambiente o di un singolo oggetto e il sistema creerà la sua versione tridimensionale. E veramente ci vuole un istante. La cosa incredibile è che riesce a riconoscere anche l'oggetto che state in quel momento andando a creare in 3D e lo isolerà automaticamente dal paesaggio intorno, dallo sfondo. Questo vi permetterà poi di utilizzare questo oggetto 3D in qualsiasi vostro progetto anche di realtà aumentata. L'applicazione stessa vi permetterà infatti di prendere l'oggetto che avete scansionato e in realtà aumentata farlo vedere nella situazione in cui vi trovate. Ad esempio avete scansionato un oggetto dovrete vedere se sta bene su un determinato mobile e lo potete verificare in realtà aumentata. Ma la cosa forte è che potete utilizzare qualsiasi oggetto creato all'interno di questo sistema per importarlo in software 3D e così andarlo a modificare e utilizzarlo anche per videogiochi o quant'altro. È veramente un tool fortissimo proprio perché integra quello che finora abbiamo sempre visto di scansione tridimensionale all'intelligente artificiale quindi il riconoscimento automatico di forme, immagini e situazioni il che rende questo tool veramente tra i più potenti presenti sul mercato per quanto riguarda l'intelligente artificiale. Se avete un iPhone fate una prova perché è veramente divertentissimo. Abbiamo poi un tool divertente soprattutto per chi di voi ha nipoti, figli quindi bimbi un po' più piccoli o se volete un po' tornare bambini voi stessi si chiama Scribble Diffusion ed ha la possibilità di andare a realizzare un disegno a mano libera anche il più semplice possibile un fiore, un gattino insomma anche fatto veramente male e di chiedere al sistema di generare a partire da quel disegno un'immagine realistica o nello stile che volete voi in questo modo i disegni dei vostri figli o nipoti o delle vostre stesse creazioni magari se avete mantenuto qualcosa fatto anche all'asilo prenderà vita e diventerà magari che ne so un personaggio stile i cartoni della Pixar o di Disney insomma potete fare veramente ciò che volete e credo che sia una cosa incredibilmente divertente provare per credere A.P.S. tutti i link ovviamente sono qui sotto in descrizione quindi cliccate e andate tutti questi tool nella versione base sono gratuiti se poi volete ovviamente avere qualcosa in più ci sono le versioni a pagamento l'ultimissimo tool invece si chiama NVIDIA Canvas funziona solo con le schede grafiche RTX e mette in mostra anche la potenza delle schede stesse cosa possiamo fare? possiamo disegnare una fotografia e no non sto scherzando è proprio giusto disegnare una foto infatti se vedete il tool sembra quasi che noi andiamo semplicemente a colorare una parte bianca come se fossimo su Paint o su un software basico di foto editing quindi solo pennellate e colore ma in realtà i pennelli che andremo a selezionare saranno le parti di un paesaggio montagna cielo fiume foglie alberi erba insomma chi più ne ha più ne metta e quindi quando andremo a dipingere su questa nostra tela bianca con tanto di livelli andremo a realizzare una vera e propria fotografia realistica ovviamente ogni tanto bisogna stare attenti perché è comunque una versione beta ai suoi difetti ma si possono creare veramente delle cose divertenti per quanto questo possa sembrare inutile in realtà al di là di farci passare magari dei minuti divertendoci può essere estremamente utile per chi lavora nel mondo del 3D infatti da poco è stata introdotta anche la possibilità di realizzare le classiche immagini a 360 gradi utili per creare render fotorealistici o meglio per creare quindi l'environment il paesaggio intorno che si rifletta poi sull'oggetto o sulla scena che stiamo realizzando di solito immagini di questo tipo anche di alta qualità costano in questo caso potete realizzarne completamente in maniera gratuita esattamente come le volete voi potendo modificarle al volo e non dovendo quindi passare né da esperti del settore né da photostock come detto prima abbastanza costose ragazzi questi erano i 5 tool che avevamo da presentarvi per oggi e abbiamo tantissimi altri da mostrarvi quindi se dovessero piacervi video di questo tipo fateci sapere qui sotto nei commenti e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice nel su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto